Buongiorno Presidente Rossi, buongiorno Ministra Micheli, sono Luca Brunelli, Presidente della SCIA Toscana e come prima cosa vorrei togliere qualsiasi dubbio dal tavolo. Gli agricoltori che rappresenta la Confederazione Italiana Agricoltori sono favorevoli alle grandi opere. Queste servono per aumentare la potenzialità e per aumentare le condizioni di successo della Toscana. Noi abbiamo bisogno però che queste opportunità, queste potenzialità siano più equamente condivise con tutti i settori produttivi dove purtroppo l'agricoltura spesso rimane al margine. Le opere serviranno per far aumentare il commercio, per far aumentare il turismo ma soprattutto per creare un volano che convolgerà tutti quanti i cittadini della Toscana. Come dicevo c'è bisogno di ripartire meglio la ricchezza, noi pensiamo innanzitutto che sul turismo ad esempio la Toscana deve riuscire a garantire un maggior convolgimento della parte agricola. Io credo che questo sia giusto perché non possiamo più permetterci di avere meno diritti e maggiori doveri nelle aree rurali. Quando si parla di infrastrutture dobbiamo guardarli a 360 gradi e vorrei portare all'attenzione un problema primario, quello che noi incontriamo ogni giorno nelle dette strade estraurbane secondarie. Già il nome indica che esistono dei posti secondi e dei cittadini di seconda categoria. La Toscana questo non se lo può più permettere. Noi abbiamo bisogno insieme alle grandi infrastrutture che servono da grandi snodo di dare la possibilità di servizi e di condizioni a tutta la società compreso quella agricola, la ruralità, di avere gli stessi benefici e avere le stesse opportunità dei cittadini che vivono nelle aree urbane. Credo che quando parliamo di infrastrutture dobbiamo farlo anche guardando oltre alle grandi strade di viabilità primaria, dobbiamo guardare oltre alle ferrovie, dobbiamo guardare oltre agli aeroporti, oltre ai porti navali, ma dobbiamo attenzionare anche altri elementi. L'infrastrutture che servono ad avvicinare alla società, al mondo, le nostre aziende sono anche la banda larga, la banda ultra larga e sono ad esempio i servizi che per l'agricoltura stanno diventando primari come quello dell'acqua. Ecco il tema dell'acqua penso che dovrà diventare il centro dell'attenzione di una discussione molto più ampia, ma soprattutto dovremo determinare il punto zero per una pianificazione strategica di un impianto irriguo da creare, perché in Toscana oggi abbiamo solo pochissime aree coltivate e oggi l'irrigazione è qualità, è possibilità di produrre, è possibilità di fare reddito ed impresa nelle aree rurali. Senza l'acqua non riusciremo a poter continuare a gestire, a salvaguardare il territorio. Credo che sul tema dell'acqua ci sia da guardare anche l'elemento della regimazione, del contenimento, ogni giorno vediamo i danni che sta producendo e questo è altrettanto negativo e vogliamo anche qui che l'agricoltura fosse coinvolta, gli agricoltori fossero i protagonisti di un'azione che hanno sempre fatto con il loro sapere, con la loro coscienza, ma va senz'altro oggi introdotta all'interno di una pianificazione diversa. Grazie.